un giorno a scuola la maestra ci diede un compito trovare il sinonimo di alcune parole che lei aveva scritto alla lavagna tra queste figurava la parola separazione allora per istinto pensai al mio migliore amico che a causa del nuovo lavoro del padre aveva dovuto trasferirsi in austria e io scrissi lutto e sì perché separarsi da qualcuno è un lutto metabolizzare questo lutto è un'impresa quasi impossibile c'è uno stato d'animo meglio noto come nostalgia che ci ripropone ad intervalli temporali assai diversi frammenti di vita passata momenti ormai definitivamente conclusi facendocene provare ancora di nuovo un forte bisogno da quel giorno non ci siamo più sentiti e inizialmente mi mancava tutto di lui adesso quello che più mi manca è l'idea che un affetto come il suo esista il fare gentile che aveva verso di me sempre il modo il suo modo ancora più che la sua persona col tempo mi avrà dimenticato o forse no così come non l'ho dimenticato io si cambia perdendosi e ritrovandosi per poi riperdersi e mai più veramente ritrovarsi o magari ritrovare chissà un giorno qualcuno che di nuovo colmi quel vuoto grazie a tutti 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 grazie a tutti